bike channel e 60 all'ora stanno per rivoluzionare il modo di pedalare con un imperdibile scuola di ciclismo 50 bici 50 divise uguali per 50 partecipanti che dal 26 al 29 novembre nella palestra naturale della maremma avranno la possibilità di apprendere i segreti di questo sport seguiti dalle telecamere di bike channel per info iscrizioni vai sul sito 60allora.com vi aspettiamo